Questo è un grande onore, mi ringrazio all'Academy per questo precioso award. Mi permette di invitare il team, il grande team che ha fatto questo possibile sul stage? Ecco, ma questo mi ricordo Tramma, perché sai, quattro anni ci ho messo per studiare Lecce, Traumasi. Mi wake up 6, un caffè e due sport, un workout, due ore di sport, una e un halve. Mi sono Goodwill, l'ambassadore dei regulari ragazzi delle strade, e mi sono Prinz del Ballad, e mi cercano di unesco impressi, sai? Noi, 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 noi. Vizio 10? Vizio 10, ma? Guarda da l'interno, cosa puoi vedere? Io posso vedere, chi è in questo senso? Non c'è. Oh, no. Io 7 anni di stai intorno a la mia madre, io gli ho messo un agenzio chiesto perché io gli ho messo un esportista. Io gli ho messo nella mia madre, io gli ho messo un agenzio chiesto perchè io gli ho messo un agenzio chiesto. Quindi, lei lui ha detto, non devono studiare, ma se sarebbe un buon graddino. Io gli ho messo un avuto, il учimento delle strade. Il suo ragazzo, il mio amore è il nostro sette team e il suo ragazzo. Il mio amore e il nostro sette team. Il mio amore. Io gli ho messo. Buongiorno, io ho letto oggi, la gazzetta della sporia ho visto, Sarri è un collega. Come hai fatto in questo? Con una serie per un episodio, o due di episodi. È stato in conservatorio quando studiando musicale. Tu trouverai una soluzione, tu sei forte, tu non hai bisogno. Come hai bisogno di farvi, tu hai bisogno di farvi. È un professore molto importante. L'attività è un po' molto... Puoi... Puoi... Puoi imparare l'apprendimento. Quando ero in high school in Texas, i sono andati a fare un teatro e delle serie extracurrici. Cosa, quando ero sportivo, non mi piaceva l'attività, ma ho dovuto prendere un'attività. In Canada? Cosa? 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 Cosa?